You know you make me wanna shout, click my finger, shout, throw my hands right, shout, now wait a minute. Regole, certezze dei tempi, definizione dei ruoli. Penso che il comitato provvisorio per il credito vada reso permanente, penso anche che la parte confidi debba essere potenziata, mi auguro però che anche la parte confidi sia più credibile rispetto a Basilea 2, che può piacere o non piacere, però su quello ci dobbiamo muovere. Io ho guardato tutto il dossier fondi europei e credo di averlo scorso abbastanza bene. Il problema non è tanto i singoli progetti di per sé vanno anche bene, nei vari settori. Il problema è che invece dobbiamo fare uno sforzo di programmazione, individuare i settori prioritari su cui devono andare, e su quello concentrare e programmare, perché il ruolo della regione è quello della programmazione, il ruolo dell'applicazione appartiene ad altri. Su quello io penso che un più stretto legame con Bruxelles sia indispensabile. Programmazione da parte nostra, un po' per non renderli, perché è francamente uno spreco, ma secondariamente per utilizzarli al meglio. Continuo a pensare che non è sufficiente il mercato interno, laziale in particolare, per l'assorbimento e il rilancio della vostra produzione. Secondo me nel giro di pochi anni si apre l'intero mercato del Mediterraneo per il semplice motivo che cadrà il proibizionismo sul vino in Mediterraneo. Mi chiedo se mentre continuiamo a fare tutto quello che c'è da fare localmente, non sia il caso di mettere qualche piede, c'è un treno che sta passando, e io credo che attivando e formalizzando di più la ricerca in sinergia con le imprese sia un treno su cui dobbiamo salire. Diversificazione della vostra attività con l'esplosione dell'agriturismo, per esempio, credo che anche questo è un dato che va valorizzato e anche lì penserei a un dato non solo di consumo interno, quando parlo di agriturismo, ma di consumo... Cioè noi siamo inseriti in un mercato di 400 milioni di cittadini, ma perché non lo usiamo? Quindi abbiamo tre, e chiudo, tre livelli di azione. Un'azione di regione che è soprattutto di semplificazione, di legalità e di trasparenza. Un'azione europea che secondo me va perseguita da tutti i livelli, ma dal turismo, all'agriturismo, ai fondi europei. Un'altra dimensione su cui dobbiamo guardare all'Europa. La terza è nuovi mercati, nuove opzioni, nuove possibilità. Se volga a mezzare. No, wait a minute.